Ursula e Horst passano parte del loro tempo nel paesaggio di Dianorentino. Qui hanno trovato antiche radici e nuovi stimoli. Ursula e Horst amano immergersi nella luce di questi luoghi. Una luce capace di penetrare le loro anime per misurarsi con la loro fede profonda. Una fede che loro intendono soprattutto come donne di impegno per aiutare i meno fortunati. Io ammiro tanto i vecchi che hanno fatto, coltivato, che hanno creato questi paesi, questi ulivetti. Hanno avuto una comunità incredibile. Senza questa comunità non sarebbe possibile fare questo lavoro. E questo peccato stiamo perdendo, questa comunità. Abbiamo una tradizione in Germania. Qui in Liguria ho visto solo due o tre via crucis. In Germania ci sono tanti, questi via crucis. Abbiamo una tradizione che mi piace molto. Facciamo a Pasqua un via crucis, ma preghiamo solo alle stazioni. Tra le stazioni, chiacchierano. E questo mi piace, perché la gente viene assieme, si parlano, si parlano. Quando arrivano alla stazione, pregano e dopo chiacchierano. E questa idea, ho pensato, forse funziona anche qui. Facciamo un via crucis, così la gente può camminare a Santo Nantinino. C'è comunità e preghiamo. Ma Don Baiea, il parroco, non è stato molto convinto. Lui ha fatto diverso. Ha pregato da Carmine fino a San Antonino, sempre pregando. Allora, la mia idea non è stata realizzata. Peccato. Ma forse le prossime generazioni possono fare così. Allora, abbiamo avuto alcuni, come si chiama, muratori, che hanno aiutato. Tutto il paese ha aiutato. Abbiamo raccolto anche i soldi per pagare l'artista che ha fatto i quadri, perché in queste piccole costruzioni ci sono quadri. Sono dipinti da un'artista tedesca che ha fatto quadri dipinto indietro vetro. E questo dovevamo pagare. E abbiamo fatto una raccolta. Ogni famiglia di queste 14 stazioni ha preso una stazione, ha donato i soldi. erano più soldi che erano sufficienti per i quadri, per il lavoro, per il materiale. E queste famiglie hanno deciso, quello che è avanzato, io posso prendere per un ospedale in Nepal. Allora, tutti sono stati contenti. È una bella storia. Mi è piaciuto. È una bella storia che la gente ha anche avuto simpatia per i poveri in Nepal. La quattordicesima stazione è sempre quando Gesù Cristo è sepolto. Ma in Baviera e in Austria fanno, per fare un fine più felice, e fanno una quindicesima stazione, la risoluzione di Gesù. Questa è una cosa che mi piace. Questa è una cosa che mi piace. Grazie a tutti.